Di fronte ai tanti problemi di dimensioni epocali che si pongono di fronte all'umanità, sempre più ampi, sempre più globali come dimensioni e come carattere, nessuna sovranità nazionale è in grado di affrontarli con efficacia. Per rendere effettive queste sovranità nazionali occorre investirle insieme in quella europea. Questo è il modo di poter affermare un contributo efficace, effettivo, serio, concreto, importante della civiltà europea alla vita della comunità internazionale e insieme garantire agli Stati nazionali che ne fanno parte di garantirsi un'effettività di sovranità gestita insieme. Grazie a tutti.